La San Giovannese al Torrini di Sesto Fiorentino per la dodicesima giornata del campionato d'eccellenza anticipa il sabato su richiesta della squadra di casa. Mister Calderini, oggi squalificato, viene sostituito nella panchina dei Valdarnesi dal secondo Ravenni. Negli undici titolari, la Sangio deve fare a meno di la Rocca, anche lui fermato, nella doppia ammunizione di sette giorni fa. Spazio da subito, quindi, a Muscas fra i pali, difesa a quattro composta da Benucci, Frio, Fedeli e Pollini. Centrocampo con Mugelli, Nardoni e il neoacquisto buttato da subito nella mischia Francesco Stella. Davanti, canonico tridente, formato da De Gori, Romanelli e Petriccione. Dalla sponda rosso-blu, tutti disponibili gli uomini in rosa, con davanti il miglior attacco del campionato, con 19 reti segnate, affidato a Marzielli, Regoli e Rinaldini. Le due compagini si giocano il primato provvisorio in classifica. Prima dell'incontro, la società di casa consegna una targa a Calderini a celebrazione degli anni passati nella panchina sestese. In campo, invece, rispettato un minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione in Sardegna. Arbitra l'incontro il signor Baschieri di Lucca. Inizia il primo tempo e al decimo la Sangio si fa vedere con un timido tiro su punizione dalla lunga distanza di De Gori. Al sedicesimo la sestese risponde con Aldrovandi, che da fuori aria prova la botta secca, Muscas blocca sicuro. Al diciassettesimo il solito De Gori ci riprova da calcio di punizione. Al diciannovesimo la sestese spinge e Rinaldini sferra un gran tiro che Muscas riesce a deviare in angolo. Al ventisettesimo Sangio vicina al gol, Mugelli serve Petriccione che si porta il pallone in avanti e con un colpo sotto per poco non sorprende Fedele, che è strepitoso nella risposta. Al trentaseiesimo Regoli prova il tiro a sorpresa dal limite, che è facile preda di Muscas. L'arbitro dopo due minuti di recupero manda tutti negli spogliatoi, pareggio parziale, legittimato dai tiri in porta e dal gioco visto in campo. Inizia il secondo tempo con le immagini curate per noi da Nedo Marziali e prima del fischio d'avvio Ravenni sostituisce Stella con il rientrante da infortunio Caldarelli. Al settimo De Gori riapre le danze con un calcio di punizione che da 30 metri impegna Fedele. Dal quindicesimo la sestese inizia a guadagnare metri ed il trio d'attacco mette paura. Rinaldini per Marziali che ci prova, Regoli raccoglie l'area spinta ma Muscas dice ancora no. Al diciannovesimo gol annullato alla sestese, non è chiara la decisione ma forse l'assistente ha visto il fuorigioco di Sanni che sembra esserci anche se millimetrico. Ma il vantaggio è solo rimandato e Marziali al ventitreesimo dopo un cross al bacio di Bianchi trafigge Muscas per l'uno a zero. La Fda in questo momento verso Regoli, buono lo scambio degli attaccanti della sestese con Bianchi al centro rete e questa sì che è buona. Gran gol di Marziali, gol nell'area e la sestese va in vantaggio. Al ventisettesimo grossa indecisione di Fedele che favorisce Rinaldini ma l'attaccante non sa approfittare. Al ventottesimo l'assaggio è in balia del gioco della sestese e trova il 2 a 0 con Regoli che spinge comodamente in rete grazie al cross di Biondi. Ancora in avanti la sestese, attenzione vicina la sestese addirittura al secondo gol, il tiro la rete. 2 a 0, gol di Regoli e qui è la doccia fredda per il Marzocco. Al quarantaquattresimo dopo un dominio oggettivo della sestese, Mugelli cerca il gol della bandiera così. Si conclude l'incontro con la vittoria dei padroni di casa che volano provvisoriamente al primo posto in classifica. Sangio che nel secondo tempo non è riuscita ad arginare le tante incursioni rosso-blu. Fra una settimana al Virgilio Fedini arriva il lanciotto campi e Calderini dovrà rivedere gli errori fatti, soprattutto nella ripresa. Interviste dopo gara, siamo con il presidente del San Giovanni Valdarno, Lorenzo Grazi. Oggi un primo tempo buono, un secondo tempo che è stato dominato in gran parte della sestese, forse andava sbloccato prima il risultato? No, abbiamo fatto 60 minuti buoni con un equilibrio sostanziale, due o tre palle con noi, due o tre palle con loro. Poi potevamo sicuramente fare qualcosa di più sia in fase di cambi, sia in fase di attenzione dal punto di vista tattico, di concentrazione. Abbiamo perso una partita con le nostre mani, non per merito loro. Forse il gol di Petriccione doveva arrivare al primo tempo per sbloccare la situazione, poi la Sangio si è un po' persa nel secondo e la sestese ha trovato fiducia. La squadra è molto giovane, chiaramente l'unico valore che può avere un giovane è l'entusiasmo, se lo stronti l'entusiasmo lo metti l'icapò, invece noi l'abbiamo fatto aumentare l'entusiasmo invece di rompirlo. Quindi dobbiamo fare una mia colpa, crescere tutti e cercare ognuno di fare il proprio esame di coscienza, perché io a sesto non ci voglio perdere. Comunque un Sangio che può rifarsi, la classifica è molto corta, si torna al Fedini fra una settimana, bisogna guardare avanti. Guardare avanti è fondamentale, però oggi si parla da se stese giustamente, quindi non sono per niente soddisfatto né dell'atteggiamento della squadra né dell'atteggiamento del mio staff. Cosa si aspetta da martedì, da lunedì, che cambiamento si aspetta? Cambiamento nessuno, è una spogliatoio sanissimo, un progetto sano e equilibrato, quindi mi aspetto che ognuno riprenda lucidità, tranquillità, perché siamo una squadra importante. In secondo tempo cosa è successo secondo lei? Abbiamo perso lucidità tutti, abbiamo tutti perso lucidità, perché una partita sta 0-0 dopo la vittoria domenica, a noi a un certo punto ci poteva anche andare bene per come stava andando la partita, poi dopo, però ripeto, una squadra giovane se gli dà entusiasmo è pericolosa, se una squadra giovane gli rompe l'entusiasmo o va in difficoltà, probabilmente negli ultimi 10 minuti potevamo anche fargli male. Mister Gutili, oggi si è stese in doppia faccia, primo tempo equilibrato, dove lo 0-0 ci stava, poi secondo tempo è venuto a fuori, forse è venuto fuori l'entusiasmo dai giovani? Sì, diciamo che alla fine credo il risultato sia legittimo, abbiamo incontrato una Sangiovanese ben messa in campo, che ha voluto fare la partita, l'ha fatta in maniera importante, noi abbiamo retto il primo tempo in maniera anche ordinata, nel secondo tempo quando abbiamo visto che c'era la possibilità di poter far male ci abbiamo creduto e lì siamo stati bravi a trovare le situazioni per andare in vantaggio, poi abbiamo subito un pochino il ritorno della Sangiovanese, anche se grosse occasioni da gol non ne hanno avute, poi siamo stati bravi in contropiede con un'azione da manuale a andare sul raddoppio e a legittimare un po' il risultato, comunque anche nel primo tempo abbiamo avuto un paio di situazioni importanti, anche loro con il tiro di Petriccione deviato da Giona a Fedele, insomma io credo che la gente sia divertita e che abbiano assistito a un buon spettacolo per l'eccellenza. Siete il miglior attacco del campionato, 21 reti, l'avete dimostrato anche oggi? Sì, siamo una buona prima parte di stagione, siamo soddisfatti, sinceramente siamo anche al di là delle previsioni, nel senso che stiamo lavorando per far crescere i ragazzi e stanno crescendo in fretta, per cui andiamo avanti così, a fare i spenti, non abbiamo nessuna pressione da parte della società, chiaramente sono contenti, se poi a un certo punto del campionato saremo ancora lì ci proveremo, però adesso ci guardiamo il momento, i numeri dicono che siamo uno degli attacchi più prolifici, quindi continuiamo su questa strada. È più facile allenare una squadra dove sia Marzierli, Rinaldini e Regoli, anche se giovani, ma davvero sono devastanti da davanti quando ci si mettono? Sì, i ragazzi stanno trovando autostima, quando sono arrivato io l'anno scorso, che la sestese era ultima, mi meravigliavo di come potessero essere in una situazione di classifica così, piano piano abbiamo lavorato sul carattere, sulla fiducia, sull'autostima, e le qualità le hanno, le stanno mettendo a servizio della squadra, ma sono convinto che hanno ancora margini di miglioramento, perché Marzierli è 93, Rinaldini è 95, Regoli è 92, insomma sono ancora giocatori che possono crescere e devono crescere. Luciano Roveni quest'oggi a sostituire Calderini in panchina, sostituirà i Calderini fino al 20 di dicembre, perché la squalifica è fino al 20, e oggi cosa è successo? No, sarei piaciuto, sarei contento che il mister fosse in panchina, purtroppo c'è stata la squalifica, sono andato in panchina e niente, oggi non abbiamo fatto la prestazione delle precedenti, tutto lì. Si è trovata una squadra in salute, una squadra giovane che corre, secondo me è una delle più belle squadre che ho visto finora, però non ha incontrato una san giovannese come conosciamo, purtroppo è andata così, settimana lavoriamo, sappiamo il nostro programma, andiamo avanti perché la squadra sicuramente si riprenderà, io non nego che il progetto è di fare un campionato di vertice, tutto qui. Comunque anche dalle sconfitte si può crescere assolutamente, soprattutto in questa prima fase del campionato, poi ci sarà il ritorno e lì i punti forse varranno anche doppi in qualche situazione. Sì, sì, noi manca tre partite alla fine di girone di andata, siamo in vetta lassù, cerchiamo sempre di dare il massimo, oggi non abbiamo dato, ripeto, si è trovata una squadra più brillante e quando si perde va valutata bene in settimana, però, ripeto, faccio complimenti alla se stesse perché ha fatto una bella partita, noi siamo stati un po' di sotto e ci riprenderemo alla grande. Siamo partiti bene il primo tempo, poi loro hanno finito migliorando il primo tempo, il secondo tempo siamo partiti bene, poi dopo il go annullato la San Giovannese si è persa, purtroppo è andata così, si è preso du go che si potevano evitare tranquillamente, ne valuteremo lunedì perché noi la preparazione la faremo lunedì, la valuteremo bene attentamente, Mist è bravo, è uno, ripeto, insegna calcio, parlerà con i giocatori e da lì poi riprenderemo la partita e poi abbiamo fatto due trasferte, il giro di torno ne abbiamo due in casa, per cui calmi, tranquilli, non è successo nulla, andiamo avanti così, testa su alta, tranquilli, come ho detto, dello spogliatoio e poi vedete la San Giovannese si farà sentire alla fine del campionato. Andrea Frio, questo secondo tempo, cosa è successo nella difesa? Più che nella difesa si è sbagliato tutti e 11, si è pagato tutti e 11 su due episodi identici, si è perso palla, non abbiamo coperto, non abbiamo difeso per bene, si è preso due gol, torniamo a casa con il rammarico sicuramente di non avere neanche un punto, però spero che questa sconfitta ci serva per il futuro, abbiamo abbassato troppo la concentrazione e l'abbiamo pagata a caro prezzo questi due episodi. Loro hanno giocato un buon calcio, noi sicuramente potevamo fare molto di più, non l'abbiamo fatto e questo è stato il risultato. Ravenni ha detto che dal gol annullato alla Sestese siete calati, siete andati un po' in valia delle onde. No, sai, poi sono tutti episodi, noi abbiamo sbagliato l'approccio, sia nel primo gol, sia nel secondo, a parer mio, tutto il secondo tempo. Il primo tempo siamo stati lì, loro non hanno avuto queste grandi occasioni, noi non abbiamo avuto queste grandi occasioni, era una partita, diciamo, un po' così, loro hanno mostrato di giocare bene a pallone, noi molto meno delle nostre, sicuramente, aspettative, e quindi loro hanno portato a casa il risultato e noi no. Bicchiere mezzo pieno, un'esperienza a sesto che può far crescere. Ma sai, a me il bicchiere mezzo pieno non mi è mai piaciuto, preferisco piuttosto una sana lezione, ma spero che questa qua ci serva veramente per il futuro. Vieri, giocatore della Sestese, intanto avete vinto una partita che vi proietta al primo posto in classifica, ve l'aspettavate all'inizio campionato, era nelle vostre corde, nei vostri programmi? Ma arrivare a questo punto, essere più in classifica, forse no, però sicuramente è una grande soddisfazione, perché dall'inizio dell'anno scorso, di metà l'anno scorso, prepariamo al meglio tutte le partite, attraverso il lavoro, e diciamo che questo è il regalo più grosso che poteva arrivare dopo un anno di lavoro insieme al mister e penso sia meritato. Voi come avete vissuto questa attesa e poi questa vittoria, perché è una vittoria che nel secondo tempo avete legittimato con azioni interessanti? No, l'abbiamo vissuta tutta la settimana, la prepariamo con grande intensità, grande voglia, grande determinazione e oggi penso che la vittoria sia stata meritata e la vittoria di tutto il gruppo è stata una partita bellissima per tutti, penso. Molti giovani, qual è il segreto? No, sicuramente l'unione, il gruppo splendido che abbiamo e il lavoro che facciamo durante la settimana penso siano gli ingredienti migliori.